L'altra ipotesi che è residuale ma c'è nell'ambito del nostro ordinamento è l'autocertificazione vera e propria ad opera della parte, questo perché aggiungo un tema che è molto delicato ma è riconosciuto, cioè essendo l'agibilità uno stato di fatto dell'immobile, nel nostro ordinamento l'autocertificazione portata dal DPR 445 del 2000, quindi dal testo unico sulle autocertificazioni, dà la possibilità appunto di autocertificare i fatti, gli stati, le qualità personali di cui la parte è a conoscenza, per cui se la parte autocertifica un fatto, cioè che l'immobile ha le caratteristiche intrinseche di agibilità, cioè è salubre, è conforme al progetto e non ha problemi di urbanizzazione, di quant'altro richiesto per l'agibilità, ecco che l'autocertificazione della parte, un po' come avviene nella scia all'interno della scia, è valida a tutti gli effetti, quindi di fronte ad una proprietà che autocertifica l'agibilità dell'immobile, a questo punto, chiaro, scattano, possono scattare i controlli, le verifiche, ma sulla validità di quell'agibilità noi saremmo in difficoltà se chiedessimo un passaggio, un aggravio procedurale come il certificato vero e proprio, per cui questo è un tema delicato su cui poi torneremo dopo. In questo caso però la norma sembrerebbe stare su un piano formale, su un piano provvedimentale, perché ci dice assenza di certificazione comunale di inagibilità, come dire, se anche l'immobile fosse stato inagibile prima del sisma, perché le condizioni di fatto erano tali, essendo una situazione di fatto l'agibilità non c'è bisogno di dichiarazione, semmai diventa un problema di prova, ma l'immobile era, ipotesi, era già inagibile, perché era una situazione di fatto inagibile, però, altre ipotesi, non c'era il certificato di inagibilità espresso, non c'era il documento, l'attestazione da parte della PA. Allora in questo caso un'interpretazione molto, diciamo così, fiscale da questo punto di vista e approfondita potrebbe arrivare a dire, anche se non ho l'assenza di certificato, se non ho la certificazione di inagibilità, ma comunque lo stato di fatto era di inagibilità nella data precedente al sisma e quindi io ufficio comunale sto sullo stato di fatto e quindi non posso accettare la procedura di contributo, perché manca un requisito. In realtà, sì, il collabente, in realtà su questo punto noi non ce la sentiamo di seguire questa strada, che è troppo formalistica ed è troppo sostanzialistica da un lato, ma formalistica dall'altro, cioè l'andare a vedere se effettivamente sul primo punto, se l'immobile che non è oggetto di certificato di inagibilità, di fatto era però inagibile, è molto complicato. Allora sul primo punto noi staremo alla lettera dell'ordinanza, quindi assenza di certificato, quindi siamo nella prima delle tre ipotesi sull'agibilità, cioè mancanza di attestazione della PA, mancanza di certificazione della PA sulla inagibilità. Quindi se non c'è quella, dal punto di vista proprio formale, allora si supera il primo paletto. Dopodiché però il primo paletto è collegato al secondo, cioè l'immobile non deve essere stato accatastato come collabente prima del sisma, quindi vale l'accatastamento, vale dichiarazioni anche ai fini ICI e IMU ovviamente, perché poi alla fine raccontano anche queste cose. Ne doveva essere fatiscente, insicura o degradata per mancanza o carente manutenzione, quindi non utilizzabile a fini abitativi o produttivi. Ecco che ritorna il concetto di inagibilità sostanziale, cioè ritorna la verifica che il Comune dovrebbe fare per quello che è possibile su quell'immobile. Per cui manca la certificazione di inagibilità, primo punto, bene, primo punto è superato. Però l'immobile era degradato e faticente alla data del sisma? Anche se non era accatastato come collabente, perché quella è un'altra ipotesi? Se io avessi agli atti dell'ufficio tecnico una documentazione che mi dimostrasse che l'immobile era già faticente o degradato per mancato carente manutenzione e quindi non utilizzabile per fini abitativi o produttivi, anche se non ho il certificato di inagibilità, oggi si chiama solo così, io non posso accogliere la richiesta di contributo, perché ho agli atti questa prova sostanziale che l'immobile era in situazione, come dice quest'ordinanza, insicura, degradata e faticente o per mancato carente manutenzione. Ed è alternativa all'accatastamento come collabente. Quindi sono tre le ipotesi iniziali da verificare e sono una alternativa all'altra. Primo, non ci deve essere un certificato espresso di inagibilità del comune. Secondo, l'immobile non deve essere stato accatastato come collabente prima del sisma. Terzo, non devo avere io documentazione in ufficio che mi dimostri che l'immobile era faticente per carenza di manutenzione e quindi non utilizzabile a fini abitativi o produttivi. Quindi questa è la verifica sostanziale che devo fare su almeno una unità immobiliare di cui si chiede il contributo. Valgo anche le foto recuperate però, non per forza presente nell'ufficio comunale. Abbiamo un ufficio che hanno fatto indagini tramite Google Maps, archivi storici, se si ha anche un dato documentale che ci fa, o anche solo a volte si percepisce addirittura dalle foto presentate dal richiedente, che l'immobile prima del sisma era già in uno stato di fatto di degrado, quello è sufficiente o mi prova per non poter considerare la pratica corretta e concedere il contributo? Sì, teniamo sempre presente ai fini generali del procedimento amministrativo che quando dicevo prima in ufficio intendo dire che la documentazione diventi ufficiale per il comune, cioè venga prodotta, protocollata, se acquisita, esatto. A quel punto la documentazione diventa ufficiale, diventa nota all'ufficio e a quel punto è chiaro che se ho la prova di rientrare al punto 2 di questo articolo 2 dell'ordinanza così come modificato non posso accogliere nel merito il contributo perché ho un motivo ostativo di rimente, diciamo così. Teniamo conto che tutte queste modifiche sono state proprio sollecitate dal gruppo di lavoro, dalla struttura esatto, anche a seguito di quesiti. Tutti i comuni e delle precisazioni, quindi diciamo che è un dettaglio che non c'era nella precedente perché non è la prima versione dell'ordinanza, quindi non si può disattendere perché è molto esplicito, è difficile interpretare in altro modo, essendo molto chiaro, quindi qui il rischio viene proprio dal richiedente o dal tecnico del richiedente che in buona fede, magari non conoscendo la norma, in buona fede porta della documentazione anche fotografica che poi impedisce l'accoglimento della domanda, che quindi determina che sia evidente per esempio che l'immobile era già faticiente o degradato e quindi non utilizzabile ai fini abitativi o produttivi alla data del sisma, quindi questo è un elemento di rimente. Dopodiché lo stesso articolo ci dice, destinata alla data del 20-29 maggio 2012 ad abitazione dei soggetti indicati all'articolo 1 bis o di affittuari con contratto di locazione registrato in data antecedente al sisma o di comodatari, ecco qui questa norma va letta insieme all'altra di cui abbiamo dato conto prima, quindi l'immobile deve essere destinato ad abitazione di quei soggetti proprietari, uso fruttuario, titolare ed editoriale di garanzia direi di no, acquirenti o affittuari con contratto di locazione, ecco la differenza qui tra comodato e contratto di locazione, il contratto di locazione deve essere registrato all'agenzia delle entrate prima del sisma, cioè con data antecedente al sisma, poi ovviamente di anno in anno rimane per la durata contrattuale o si proroga anche, non ci sono problemi, ma deve essere registrato all'agenzia delle entrate prima del sisma, invece il comodato, l'altra norma di cui abbiamo dato conto dopo ci dice che deve essere registrato, ma qua non ci dice che deve essere registrato prima del sisma, per cui il comodato gratuito potrebbe anche essere registrato dopo il sisma, proprio perché c'è questa differenza proprio dal punto di vista della dizione letterale, quindi entrambi i contratti vanno registrati all'agenzia delle entrate, vale il contratto di locazione se è registrato prima del sisma, sul comodato sembra non esserci questo paletto della registrazione anteriore al sisma. Dopodiché ci deve essere oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e qui torniamo al discorso dell'inagibilità di prima, quindi se stiamo su un piano formale l'ordinanza deve essere espressa, quindi un provvedimento comunale, se stiamo nella sostanza delle norme comunque anche in mancanza di un'ordinanza comunale di inagibilità espressa a fronte di una autodichiarazione o di una dichiarazione del tecnico, a fronte delle verifiche del comune vale quella dichiarazione, proprio perché si tratta di un fatto che ha i sensi della norma ma è in essere però la registrazione, secondo me, sì, della registrazione. Finora abbiamo dovuto dare prova dell'utilizzo ai fini abitativi anche in altro modo, per accomodato non essendoci il contratto, però deve essere data prova, non può essere abitato da dopo il sisma. Infatti il comma 5 dell'articolo 6 dice la concessione del contributo relativamente a un'abitazione concessa in locazione o comodato è subordinata all'impegno da parte del proprietario o dell'usufluttuario alla prosecuzione alle medesime condizioni successivamente all'esecuzione dell'intervento per un periodo non inferiore a due anni del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici. Quindi la locazione o il comodato devono essere in essere alla data degli eventi sismici, quindi anche il comodato ci deve già essere. Però sembrerebbe, questo invece, il comma 2, che l'obbligo di registrazione del comodato in essere non sia antecedente al sisma, mentre lo è per la locazione. Cioè sia possibile registrarlo dopo, cioè dopo il sisma, purché sia registrato ovviamente in essere e registrato anche dopo il sisma però. Parliamo solo del comodato, ecco questo, il comodato gratuito. Quindi ordinanza comunale di inagibilità totale, dicevamo le due ipotesi, quindi autocertificazione del tecnico con verifica del comune oppure provvedimento comunale di inagibilità e poi caratterizzazione dello stato di danno. Stesso ragionamento qui viene fatto sulle attività produttive in esercizio, in edifici residenziali, quindi in edifici che abbiano una destinazione d'uso residenziale e viene disciplinata l'ipotesi. Dopodiché il proprietario, impreso persona fisica o coloro che ne detengono la disponibilità, compresi i titolari e i diritti reali, possono presentare istanza sulla presente ordinanza. Quindi questo articolo 2 ci dà un primo vaglio delle ipotesi come prima verifica per come procedere nell'ambito dell'istruttura del procedimento. Il comma 8, sempre dell'articolo 2 dell'ordinanza, così come modificato, l'abbiamo già visto prima, è fondamentale perché parla dell'abitazione a titolo principale e la aggancia alla residenza anagrafica, per cui noi sappiamo che fino alle ordinanze precedenti il ragionamento era abbastanza tranchant sulla residenza, oggi c'è questa possibilità, cioè i criteri applicati agli immobili di proprietario e affittuario in possesso della residenza anagrafica si applicano anche quando il conduttore o comodatario non possiede la residenza nell'edificio danneggiato, oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratore o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma, alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato perché è spuitato in una struttura sociosanitaria, l'abbiamo visto prima, o il proprietario di abitazione inagibile si è iscritto all'anagrafe degli italiani all'estero. Quindi questi sono gli elementi oggettivi che consentono di entrare nel merito del procedimento. Ecco, entrare nel merito del procedimento, qui iniziamo a aprire la finestra proprio sul procedimento amministrativo. Allora, noi, già disciplinato da questa ordinanza, ma poi lo abbiamo già visto in generale, abbiamo, citiamo il comma, è in vari punti, ma l'articolo 5,5 dell'ordinanza, il comune entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, rilascia il titolo abilitativo ove necessario, verifica l'abissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile, al netto dell'eventuale ristarcimento assicurativo, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto e al commissario delegato, mediante la procedura informatica appositamente predisposta. Allora, l'articolo 4, sì, l'articolo 4, sempre dell'ordinanza, comma 4, qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il comune entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni, che debbono essere prodotte e entrano in oltre 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta, appena di rigetto dell'istanza. I termini per l'istruttoria delle domande, in caso di richiesta di integrazione, si intendono interrotti sino alla ricezione delle integrazioni richieste. Allora, qui… L'altro giorno hanno pubblicato l'ordinanza 91, i tempi sono stati leggermente prorogati, quanta giorni, anziché 60 per l'istruttoria, 60 giorni per la… Integrazione, ah, ok. Integrazione e 20 giorni per fornire l'integrazione. Ah, ok, raddoppiati, diciamo. Però aspetta, quando è stata pubblicata? In casi sì, nel caso dell'istruttoria era da 60 a 90. Non ho capito. Sì, da 60 a 90 il generale, diciamo così, da 30 a 60 l'integrazione e da 10 a 20, ok. I termini per produrre la documentazione? Sì. Ok, questa è pubblicata già, sul Burla. È uscita il 2, in gazzetta. Ah, ok. Però, allora c'è un po' mai successo nel legge del tempo. Sì, c'è un problema di tempus regitactum, ma… Bisogna dire lì da quando è applicabile in poi. Adesso non l'abbiamo letta, ma contiene qualche norma transitoria sull'applicazione dei nuovi termini, sui procedimenti in corso, che ti ricordi? Ce l'hai, vuoi mandarmela? Sono collegata. Sì, sì. Ok. La vediamo direttamente. Ok. No, perché, allora, sui nuovi termini, lo schema generale del nostro ordinamento è questo. Se abbiamo una pratica in corso, quindi non è ancora definita sui vari step procedurali, e subentra una legge nuova con dei termini nuovi, vale il principio tempus regitactum, cioè applico il termine del procedimento in essere al momento in cui ho ancora aperto il procedimento, al momento in cui devo decidere. Per cui, se sono nell'ambito dei 30 giorni, sono ancora dentro i 30 giorni per l'integrazione, per la richiesta di integrazione, i termini diventano 60, automaticamente mi diventano 60, cioè applico i 60, oppure se sono nell'ambito dei 60 finali, non ho ancora chiuso l'istruttore, non ho ancora emesso il provvedimento definitivo, o il 10 bis che mi fa scattare poi gli altri termini, diventano 90, applico automaticamente i 90, perché finché non ho chiuso il procedimento, si applicano i termini vigenti in quel momento, cioè nel momento in cui io devo chiudere il procedimento, devo decidere, per cui se entra in vigore una norma nuova che mi allunga i termini, io devo applicare quella, per cui oggi a tutte le procedure aperte, in corso, applichiamo queste, tranne ovviamente il termine dato al privato, perché lì è un atto recettizio, per cui se io ho già mandato un avviso in cui c'è scritto che entro 10 giorni devi darmi le integrazioni o la documentazione mancante, è chiaro che o gliene mando un altro subito dicendo guarda che i giorni non sono più 10, ma sono 20, ma è un po' una forzatura, altrimenti si potrebbe attendere i 20 e non i 10, considerandolo termine ordinatorio e non perrentorio, quello poi per la chiusura del procedimento, quindi per l'adozione del provvedimento finale, questo sì, ma altrimenti non ho la possibilità di avvisare l'interessato di questa modifica, mentre gli altri che sono termini in capo al procedente, quindi alla pubblica amministrazione, sono automaticamente prorogati rispetto ai termini nuovi, finché non ho chiuso il procedimento. Però se ho già fatto la richiesta di integrazione, mi hanno già depositato l'eventuale documentazione 10 giorni, quella tranche è chiusa, scattano gli altri, quindi non è che con il nuovo termine posso aprirne un'altra per i 30 giorni mancanti. No, infatti però mi calcolo i 90 finali, cioè compresa quelle non più i 60 con i termini nuovi, sì. Allora qui da questo punto di vista noi dobbiamo incrociare questa norma con l'articolo 2 della 241 del 90, che è quella del procedimento amministrativo in generale. L'articolo 2 ci dice, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta in ricevibilità, inammissibilità, in procedibilità o in fondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto di diritto ritenuto risolutivo. Questo articolo 2,1 va letto insieme all'articolo 3, sempre della 241, sulla motivazione, perché l'articolo 3,1 ci dice, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2, cioè non è richiesta la motivazione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ma in questo caso noi stiamo parlando di atti provvedimentali, a contenuto specifico, richiesta personale e evasione della pratica, quindi non è un regolamento, un PGT, un atto normativo a contenuto generale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, per cui noi abbiamo una norma, due norme, diciamo in generale la 241 che ci dice, attenzione, per ogni provvedimento amministrativo l'amministrazione deve motivare, deve motivare sulle ragioni di diritto, sulle ragioni di fatto che determinano l'accoglimento o il rigetto della domanda, qui siamo nell'ambito del procedimento espresso, quindi un procedimento che viene iniziato con un'istanza di parte, ovvero si applica anche ovviamente ai procedimenti iniziati d'ufficio, ma nel nostro caso il procedimento inizia con una istanza di parte e il nostro procedimento è particolare perché in realtà da ordinanze, abbiamo già visto, l'abbiamo già più volte masticato, sono due i procedimenti amministrativi che si intersecano, quello edilizio e quello della concessione del contributo. Il procedimento per la concessione del contributo è certamente un procedimento ordinario, quindi istanza di parte, quindi l'iter procedurale istruttorio e quindi provvedimento finale di accoglimento o di rigetto. Il procedimento edilizio connaturato al procedimento generale di concessione del contributo può essere un procedimento ordinario nel caso in cui la domanda tenga luogo al permesso di costruire, oppure può essere un procedimento automatizzato in autocertificazione nel caso in cui la domanda tenga luogo alla scia o alla di edilizia in casi residuali in cui sussiste ancora la di edilizia. Quindi mentre la domanda di concessione di contributo è sempre un procedimento ordinario a cui si applicano queste norme, la pratica edilizia può andare in permesso di costruire o in procedimento automatizzato. Allora, questo articolo 2 e articolo 3 sicuramente lo applichiamo alla pratica di concessione di contributo, ma è connaturata la pratica edilizia perché nel momento in cui l'ordinanza mi dice verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica e rilascia il titolo abilitativo dove necessario, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo, c'è un presupposto fondamentale per l'accoglimento ovviamente che è la regolarità del procedimento edilizio e la conformità urbanistica dello stesso. E allora da questo punto di vista noi abbiamo un procedimento ordinario che deve essere regolamentato già dall'inizio dai passaggi procedurali dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della 2.4.1 e da questa norma che abbiamo letto adesso, cioè l'articolo 4,4. Allora, il primo punto che noi dobbiamo analizzare tenendo sempre presenti i presupposti di cui abbiamo parlato fino adesso. Elemento soggettivo, primo presupposto, cioè chi ha diritto di presentare la domanda. Elemento oggettivo, cioè che l'immobile abbia quelle caratteristiche. Allora, a questo punto il procedimento consegue ad un'istanza di parte, quindi certamente è il privato che avanza la domanda al comune per ottenere il contributo e per ottenere il titolo edilizio. Allora, primo punto, l'amministrazione deve verificare se su questa domanda vi sia una manifesta in ricevibilità, inammissibilità, in procedibilità o in fondatezza della domanda, perché in questo caso siamo in un'ipotesi di pre-istruttoria, cioè noi non entriamo nell'istruttoria di merito di tutti i presupposti che sono necessari per l'ottenimento del contributo, ma rispondiamo dicendo che la domanda è inammissibile, la domanda è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata. Questo istituto è stato introdotto ex novo con la legge 190 del 2012, non esisteva prima l'istituto dell'irricevibilità, si è sempre detto se una domanda arriva al protocollo comunale non è mai irricevibile, perché il comune la riceve, semmai sarà inammissibile o non accoglibile, nel senso che non ha i presupposti, ma non può essere irricevibile perché viene ricevuta materialmente. Qui invece la norma nuova dal 2012 introduce, e lo introduce proprio nella 241 del 90, all'articolo 2, che è norma fondamentale da questo punto di vista, questo nuovo istituto dell'irricevibilità che sostanzialmente diventa un sinonimo dell'inammissibilità e improcedibilità. Quindi in questo caso incide questo provvedimento perché? Perché l'amministrazione non deve entrare nell'istruttoria, non deve motivare in modo espresso sulle ragioni di fatto e di diritto che impongono il non accoglimento e può chiudere il procedimento in modo tra virgolette veloce, purtroppo per mancanza di elementi che determinano l'entrata nel merito del procedimento.